buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo webinar di presentazione del beta program di webrazio 9 che oggi dedichiamo al lancio della piattaforma bpa io sono roberto cerbis il ceo di webrazio ed oggi qui con me c'è michela friggerio la nostra responsabile per la formazione e supporto ai clienti abbiamo una ricca agenda a michela si occuperà di mostrarvi la nuova piattaforma vpa realizzando in diretta un processo digitale completo di un'interfaccia utente personalizzata partendo da zero e utilizzando il metodo locode webrazio ovviamente in questa occasione cercheremo anche di mostrarvi tutte le recenti innovazioni che abbiamo via via rilasciato all'interno della forma durante questo beta program che ha incominciato all'incirca nel mese nello scorso mese di dicembre al termine della demo ci sarà tempo per rispondere ad alcune delle vostre domande compatibilmente con l'orario vi chiedo comunque di incominciare a inviarci le vostre domande attraverso la sezione q&a dello strumento di webinar risponderemo se possibile durante questa sessione altrimenti vi risponderemo direttamente via mail nei prossimi giorni cedo quindi la parola a michela per la demo che durerà circa 20 25 minuti ci vediamo fra poco buongiorno a tutti oggi nel tempo a mia disposizione vedremo come realizzare un'applicazione web che automatizza un processo di business in particolare un processo di gestione contratto andiamo quindi subito a iniziare il nostro sviluppo creando il progetto bpmn che sarà il contenitore di tutti i processi di business che vogliamo andare ad automatizzare nel nostro esempio andremo a modellare unicamente il processo di gestione contratto cominciamo subito quindi a disegnare il nostro processo andando a individuare quelli che sono gli attori coinvolti nel nostro esempio avremo il cliente e il back office gli attori del processo sono rappresentati da queste strisce orizzontali che vedete all'interno del diagramma all'interno dei quali si va a disegnare tutte le attività che questi attori devono svolgere andiamo ora a disegnare il flusso del processo di business partendo dall'evento che avvia il processo che sarà la richiesta di un'offerta relativa a un prodotto da parte del cliente a valle di questa richiesta il nostro processo prevede che ci sia un'attività svolta dal back office relativamente alla preparazione di un'offerta a seguito di questo verrà eseguita un'attività automatica da parte del sistema che si occuperà di generare un contratto partendo da questa offerta dopodiché chiederemo al cliente di andare a revisionare il contratto che è stato creato e decidere se lo vuole accettare o rifiutare. A questo punto il processo potrà intraprendere due strade differenti a seconda della scelta effettuata dal cliente. A questo proposito andiamo quindi a inserire all'interno del processo un punto di decisione rappresentato da questo oggetto che si chiama gateway. A questo punto il processo potrà prendere due strade diverse la prima ci porterà alla fine del processo e sarà seguita nel caso in cui il cliente decida di rifiutare il contratto e la seconda invece porterà il cliente verso un'attività che sarà l'attività di firma del contratto. Una volta che il cliente avrà posto la firma al contratto il processo arriverà al suo termine. Una volta disegnato il flusso del processo possiamo andare a bondellare quali saranno le informazioni che questo processo andrà a gestire inserendo dei parametri. Andiamo quindi a inserire i parametri del nostro processo che sono il codice del prodotto scelto dal cliente, il numero dell'offerta che verrà creato dal back office, il numero del contratto che verrà generato dall'attività di sistema e un parametro booleano che contiene la decisione del cliente relativamente al fatto di accettare o rifiutare il contratto. Queste informazioni possono poi essere distribuite sulle varie attività che abbiamo disegnato e avranno lo scopo di richiedere all'attore quali informazioni inserire per poter completare l'attività. Andiamo quindi a specificare che per preparare l'offerta il back office vedrà un codice prodotto e produrrà un numero di offerta. L'attività di sistema che genera il contratto riceverà un numero di offerta e produrrà un numero di contratto. La visione del contratto da parte del cliente gli permetterà appunto di visionare il contratto e di decidere se accettarlo o rifiutarlo. E l'attività di firma permetterà al cliente di visionare il contratto e poi di apporre appunto la firma digitale. Andiamo quindi a specificare sulle varie strade che può intraprendere il nostro processo a valle di questo punto di decisione quali sono le condizioni che attivano ognuno di questi percorsi. In particolare per arrivare al termine del processo la condizione che si dovrà avverare è che l'accettazione del contratto sia falsa mentre per poter raggiungere la firma del contratto la condizione sarà che l'accettazione del contratto sia vera. In questo modo il nostro processo è stato disegnato in maniera completa. Per poter essere funzionante dobbiamo però specificare un altro paio di informazioni. Dapprima andiamo a specificare qual è la logica di business che deve essere eseguita dall'attività di tipo service e questo può essere fatto andando a modellare una catena di operazioni all'interno di una action definition. Vado quindi a generare una action di esempio che poi andremo successivamente a personalizzare. Inoltre per poter funzionare correttamente il motore di esecuzione dei processi necessita di una sorgente dati a cui agganciarsi. Andiamo quindi a specificare questa sorgente dati inserendo le informazioni di connessione, quindi indirizzo, username e password. Per essere certa di aver inserito le informazioni correttamente effettua un tentativo di connessione. La connessione è avvenuta con successo, quindi vado a fare l'ultima impostazione per questo progetto che è l'assegnazione di una dipendenza. In particolare vado a selezionare un progetto data service precedentemente creato che gestisce i dati di clienti e contratti ma contiene anche tutti i servizi di autenticazione che il motore di esecuzione del processo dovrà usare per autenticare gli utenti e autorizzarli a eseguire il processo. A questo punto andiamo a vedere come possiamo inserire l'automazione di questo processo di business all'interno di un'applicazione web. Utilizziamo come esempio un progetto web già creato in uno dei webinar precedenti e utilizziamo una funzionalità di sincronizzazione che ci permette di selezionare quali processi vogliamo automatizzare all'interno di questo progetto e ci propone una serie di modifiche da eseguire sul progetto attuale per poter avere un'applicazione che effettivamente esegue il processo di business. Selezioniamo l'opzione che ci permetterà di avere una dashboard dedicata per ogni attore del processo e concludiamo il wizard al termine del quale otterremo un modello modificato con le azioni proposte dal wizard. Per poter eseguire questa applicazione vado a configurare ulteriormente la procedura di login in maniera tale che ogni attore del processo di business possa atterrare effettivamente sulla propria dashboard. Fatta questa operazione non ci resta che andare a generare il progetto utilizzando il comando generate and run. Questo comando ci permette di generare il progetto su cui stiamo lavorando in questo momento, quindi il progetto web, ma anche tutti i progetti a cui esso è collegato, quindi il progetto data service che gestisce i dati di clienti e contratti, ma anche il progetto BPM che contiene l'esecuzione dei processi e in particolare il processo di gestione contratto. Sempre questo comando di generazione ci permette di ottenere degli utenti di test, in particolare uno per ogni attore del processo, in maniera tale che possiamo testare effettivamente l'esecuzione del processo dall'applicazione generata. Il comando poi andrà ad avviare il Tomcat per poter poi navigare l'applicazione dal browser. Mentre questa procedura termina andiamo a vedere il modello creato dal wizard di sincronizzazione. In particolare è stata creata una web view per ogni attore del processo, in cui è presente una pagina di dashboard che contiene l'elenco delle attività che questo utente dovrà svolgere e poi una serie di pagine che ci permettono di visualizzare lo stato dei processi correntemente attivi. In particolare potremmo visualizzare anche il diagramma del processo. Inoltre per ogni attività di tipo user è stata creata una definizione di modulo ibrido, in maniera tale che l'utente possa utilizzare una pagina per inserire le informazioni base che sono necessarie al processo e poterlo poi eseguire correttamente e completare le attività. Vediamo che la procedura di generazione ha aperto una scheda per ogni progetto che è stato generato. Abbiamo la scheda relativa al progetto BPM con tutte le API di esecuzione del processo di business, la scheda relativa al progetto Data Service con le API per la gestione dei dati e la scheda relativa all'applicazione web. Andiamo quindi a eseguire il processo di business effettuando il login come utente cliente, il quale atterrà sulla propria dashboard e ci darà la possibilità di avviare il processo di business premendo questo bottone Start Request Offer. Vedete che c'è un messaggio di feedback indicante che il processo è stato avviato? Possiamo averne la conferma controllando l'esistenza del processo nella sezione dei processi attivi e possiamo anche andare a visualizzare il diagramma del processo che ci mostra lo stato attuale. In particolare vediamo che il processo in questo momento è fermo sull'attività di preparazione dell'offerta che deve essere presa in carico da un utente del back office. Effettuiamo quindi il logout e autentichiamoci come utente di back office. Questo utente atterrerà sulla propria dashboard nella quale trova appunto un'attività di preparazione dell'offerta che può prendere in carico premendo sul bottone Work On. A questo punto l'attività viene assegnata all'utente che l'ha presa in carico ed è possibile inserire le informazioni richieste, quindi un codice prodotto e un numero di offerta. Per ogni attività di tipo user l'utente può decidere se annullare l'attività e quindi rimetterla a disposizione di tutti gli utenti del back office, salvare il lavoro e continuarlo e completarlo in un secondo momento oppure completare il lavoro e quindi terminare l'attività. Soltanto in questo caso il processo di esecuzione del business process andrà avanti e quindi per questo motivo viene mostrata una finestra di conferma. L'utente viene riportato sulla propria dashboard in quanto la prossima attività sarà assegnata al cliente e sarà la revisione del contratto. Andiamo quindi a effettuare nuovamente il logout e impersoniamo il cliente che avrà sulla propria dashboard un'attività di revisione del contratto e potrà lavorarci aprendola e a questo punto potrà inserire se desidera accettare oppure no il contratto in essere. Se ipotizziamo di accettarlo a questo punto il processo andrà avanti e dato che l'attività successiva è la firma del contratto verrà proposta automaticamente all'utente corrente il quale poi visionerà il contratto e apporrà la firma. Una volta terminata questa attività il processo arriva al suo termine. Vediamo ora come possiamo tornare sul nostro progetto web e andare a personalizzare il modello per rendere l'applicazione più realistica. Partiamo con la dashboard dei clienti. In particolare facciamo in modo che il cliente abbia a disposizione una lista di prodotti tra cui scegliere quello per cui vuole ottenere un'offerta. Andiamo quindi a selezionare l'oggetto prodotto, le informazioni che vogliamo visualizzare del prodotto, l'ordinamento della lista e poi facciamo in modo che nel momento in cui l'utente sceglie un prodotto questa informazione arrivi alla action che si occupa di avviare il processo. Effettuiamo quindi il passaggio dei parametri. Andiamo ora a personalizzare il comportamento di questa azione che in questo momento è vuoto. Inseriamo invece una logica che ci permetterà di ottenere effettivamente una richiesta per il prodotto scelto dal cliente. Utilizziamo una logica di business già esistente nel progetto data service collegato. e questa azione riceverà il codice del prodotto e nel caso di successo proporrà in uscita un numero di offerta che noi andremo a salvare in un parametro che verrà poi utilizzato come valore per avviare il processo. Soltanto nel momento in cui si arriva a questa porta il processo partirà. Nel caso di errore invece il processo non verrà avviato. Andiamo quindi a lavorare sulla parte di presentazione, aprendo l'editor dedicato. In particolare andiamo a inserire al di sopra della tabella con l'elenco delle attività un'altra tabella usando questo widget data grid che ci permetterà di visualizzare i prodotti. Indichiamo che le righe della tabella sono le righe del nostro componente prodotti e le colonne della nostra tabella sono tutti gli attributi che abbiamo selezionato sul componente prodotti. Possiamo anche riordinare le informazioni a piacere. Ricordiamoci anche di visualizzare a fianco a ogni prodotto l'evento che ci permetterà di avviare il processo di business. E in questo modo abbiamo personalizzato l'avvio del processo. Andiamo ora a vedere come possiamo personalizzare le pagine relative all'attività di tipo user. Partiamo dalla pagina relativa alla preparazione dell'offerta. Qui vogliamo fare in modo che il back office possa specificare delle informazioni relative all'offerta. Andiamo quindi a selezionare le informazioni desiderate, il nome del prodotto, il prezzo, lo sconto, il totale e la sua descrizione e andiamo poi a configurare ulteriormente questa form per rendere tutti i campi in modalità sola lettura a eccezione dello sconto che sarà l'unico campo nel quale l'utente effettivamente potrà inserire un'informazione. Andiamo poi a specificare che l'offerta che deve essere visualizzata in questa form è quella gestita dal processo di business e andiamo poi a modellare cosa avverrà delle informazioni inserite dall'utente. In particolare andiamo a inserire un'azione di salvataggio dei dati utilizzando un servizio esistente. Questo salvataggio dovrà avvenire sia nel caso in cui l'utente decida di salvare il proprio lavoro per poi proseguirlo in seguito, sia nel caso in cui effettivamente l'utente decida di completare l'attività. Passiamo sempre le informazioni specificate dall'utente e poi in questo caso andremo a confermare il numero d'offerta sul parametro che ci viene proposto per il completamento dell'attività. Andiamo inoltre a inserire la logica che ci permetterà di ottenere il nuovo importo totale in base allo sconto applicato dal back office. Modelliamo anche l'evento che ci permetterà di scatenare questo ricalcolo. Passeremo a questa azione lo sconto e il codice del prodotto e otterremo come risultato il nuovo totale che useremo per caricare il campo totale. A questo punto andiamo a modellare la presentazione di questa pagina. In particolare nella form che è già esistente andremo a inserire i widget dedicati ai campi che abbiamo aggiunto. Andiamo a inserire il primo widget in una delle location proposte, dopodiché l'editor con una serie di regole automatiche è in grado di determinare autonomamente quali sono i widget per gli altri campi. Andiamo a modificare l'ordinamento di questi campi in maniera tale che sia più facile per l'utente visualizzare e compilare la form e andiamo poi a completare la configurazione del campo sconto. In particolare vogliamo aggiungere la possibilità che nel momento in cui l'utente termina di digitare la percentuale di sconto venga scatenato il ricalcolo del totale. E con questo abbiamo personalizzato l'attività di preparazione dell'offerta. Spostiamoci ora sull'attività successiva che è la revisione del contratto. Qui facciamo in modo che il nostro cliente possa visualizzare le informazioni del contratto utilizzando un servizio esistente. Selezioniamo il documento pdf relativo al contratto e poi andiamo a indicare che il contratto da visualizzare deve essere quello che viene gestito dal processo. A questo punto non ci resta che andare a modellare la presentazione di questa pagina. In questo caso andremo ad aggiungere alla card già esistente la possibilità di visualizzare anche il documento pdf del contratto. Andiamo quindi a riordinare le informazioni in modo che il file sia la prima informazione visibile e in questo modo abbiamo completato anche questa personalizzazione. Andiamo ora a visualizzare la pagina relativa alla firma del contratto e anche qui facciamo alcune personalizzazioni. Andiamo ad aggiungere la visualizzazione del contratto esattamente come abbiamo fatto poco fa per l'attività di revisione. Selezioniamo il documento pdf e andiamo a indicare che il contratto da visualizzare è quello gestito dal processo. Andiamo ad aggiungere un'altra informazione. Sulla forma di inserimento dati aggiungiamo un nuovo campo che sarà il campo nel quale l'utente potrà disegnare la propria firma. Questo campo deve essere di tipo blob perché la firma verrà trattata come se fosse un'immagine. A questo punto andiamo ad inserire la logica che ci permetterà di apporre la firma al contratto. Questa logica verrà eseguita soltanto nel caso in cui il cliente accetti il contratto e soprattutto nel caso in cui voglia completare l'attività. Vado quindi a selezionare la logica di firma che avrà bisogno del numero di contratto e della firma stessa e dopodiché arriveremo al termine dell'attività. Andiamo anche qui a lavorare sulla presentazione della pagina. Andiamo a inserire nella location dedicata al nuovo campo firma il widget specifico che ci permetterà di disegnare la firma e andiamo poi a inserire nella card la possibilità di visualizzare il documento pdf esattamente come abbiamo fatto poco fa. Anche in questo caso possiamo specificare l'ordinamento delle informazioni. A questo punto abbiamo personalizzato tutto il modello che ci era stato proposto dal wizard di sincronizzazione e possiamo quindi effettuare una nuova generazione del progetto utilizzando il comando generate project per poter navigare l'applicazione con la nuova grafica e con la nuova logica. Nel frattempo spostiamoci sul progetto BPM all'interno del quale è presente un task di tipo service per la generazione del contratto che in questo momento contiene una logica di business di esempio. Andiamo a personalizzare anche questa parte inserendo la possibilità di generare effettivamente un contratto utilizzando un servizio già esistente nel progetto data service collegato. Quest'azione riceverà in ingresso il numero di offerta e nel caso in cui termini con successo proporrà in uscita un numero di contratto. In questo caso l'attività di tipo service si concluderà con successo. In caso contrario andrà in errore. Anche in questo caso per poter vedere in opera le modifiche che abbiamo effettuato dobbiamo rigenerare il progetto. A questo punto dobbiamo attendere qualche istante che la generazione si completi e che il container ricarichi l'applicazione stessa. Dopodiché possiamo spostarci sul browser e navigare l'applicazione nuovamente vedendo le modifiche che abbiamo effettuato. Effettuiamo il login quindi come cliente. Vedete che siamo atterrati sulla dashboard dove abbiamo l'elenco dei prodotti. Avvio il processo selezionando un prodotto e a questo punto in persona un utente di back office per andare a lavorare sull'attività di preparazione dell'offerta. Vedete l'attività che viene proposta, la prendo in carico e in questa pagina ora ci sono tutte le informazioni del prodotto selezionato con la possibilità di inserire una percentuale di sconto. Vedete che appena scrivo parte il ricalcolo del totale e posso poi quindi completare l'attività. A questo punto si sta eseguendo in maniera autonoma l'attività di tipo service che genera il contratto e potremo verificare quello che viene prodotto effettuando nuovamente il login come customer e aprendo l'attività di revisione del contratto che ci permetterà di vedere il documento pdf del contratto che sto aprendo in questo momento, riportando alcune informazioni anagrafiche delle due parti, il prodotto scelto e il totale e che contiene nell'ultima pagina lo spazio dove verranno apposte successivamente le firme. Decido quindi di accettare il contratto e termino l'attività. Come è successo prima atterreremo direttamente sull'attività di firma dove è possibile visualizzare nuovamente il contratto ma dove è possibile anche disegnare una firma. A questo punto premendo su finish l'attività si completa eseguendo la logica che appone la firma al contratto. Questa logica impiega qualche istante perché sta applicando al documento proprio un certificato e quindi sta creando delle vere e proprie firme elettroniche. A valle di questo poi viene anche mandata una mail che abbiamo ricevuto in questo istante che propone in allegato la nuova versione del documento relativo al contratto che contiene le stesse informazioni di prima ma in particolare conterrà le firme delle due parti. Con questo termina la mia presentazione riguardo WebRazio 9 per la Business Process Automation e lascio la parola a Roberto per le domande. Direi che siamo arrivati al termine del webinar. Vi abbiamo mostrato, fortunatamente siamo riusciti a mostrarvi tutto quello che volevamo mostrarvi. Vi ricordo gli indirizzi per iscrivervi al webinar li trovate sulla presentazione che vedete in questo momento e vi ricordo di attendere un attimo al termine del webinar e di non scollegarvi subito perché vi chiediamo la cortesia di compilare la Sardeg che comparirà poco dopo il termine della sessione. Grazie a tutti e buona continuazione. Ci sentiamo presto con gli aggiornamenti su WebRazio 9.